Siamo felici di riportare che una delle mostre più belle in questo momento in scena a New York sia proposta da un'istituzione culturale italiana, mi riferisco alla mostra sulla propaganda, ovvero l'arte dell'indottrinamento, proposta dalla casa Zerilli Merimo della New York University. Nel curatore Nicola Lucchi che ha fatto un eccellente lavoro per raccontare come in particolare il fascismo, ma non solo, abbia indottrinato, abbia fatto appunto della propaganda, tuttavia realizzando delle volte delle opere anche artisticamente interessanti. La mostra è divisa in cinque parti, pur non essendo grandissima come quantità di opere, ma di assoluta qualità. La prima parte riguarda quello che è successo prima e dopo del fascismo, in particolare ci sono dei poster, uno relativo al supporto del piano Marshall, un'altra relativa all'elezione del 1953, quando si scontrarono da un lato le forze vicine alla democrazia cristiana, le altre vicine al fronte comunista. Il poster mostra dei piedi, evidentemente di un comunista, che stanno per votare il partito, e c'è scritto i comunisti votano così, non gli italiani. La mostra, che esibisce delle opere della Fondazione Cirulli, continua con una seconda parte intitolata Burattinaio Burattino. Si parla ovviamente di Mussolini e si cerca di capire quanto la sua abilità retorica abbia contato per conquistare il popolo italiano, ma nello stesso tempo quanto sia stato in realtà Burattino nelle mani di uomini e personalità più potente di lui, Hitler in particolare. In questa seconda parte, dove si comincia a vedere il culto della personalità di Mussolini, c'è un pezzo molto importante, molto bello, che si chiama Il profilo continuo, è una scultura dove si vede una versione stilizzata del volto di Mussolini ad opera di Renato Bertelli. Ma forse la parte più interessante e più inquietante della mostra è quella relativa alla politica e gli affari, quando appunto il culto della personalità mussoliniana e il fascismo in assoluto si è affermato totalmente e si vede che anche nella pubblicità di qualcosa che ha poco a che fare con il fascismo vengono utilizzati degli stilemi fascisti, in qualche modo facendosi forza di quanto il fascismo si fosse imposto sui italiani, in particolare la biga Metzger che utilizza la M molto simile a quella di Mussolini oppure anche la Fiat che parla della Balilla, sappiamo benissimo che Balilla era una tecnologia puramente fascista. A metà degli anni 30 l'ideologia fascista domina in contrastata e la parte della mostra è dedicata a come in maniera ormai accettata quasi unanimamente l'ideologia ma anche lo stile fascista penetra ogni momento dell'attività quotidiana. Infine c'è una quinta parte che racconta come si è cercato di espandere e soprattutto esportare all'estero appunto lo stile, l'ideologia e la propaganda fascista. C'è un bozzetto di Sironi molto bello ma anche un progetto approntato da Gio Ponti per il Palazzo d'Italia all'interno del Rockefeller Center. In quest'ultima parte c'è anche una fotografia che mostra gli idrovolanti di Balbo che sorvolano Manhattan. Insomma la mostra ci fa vedere come l'ideologia fascista, come la propaganda fascista si è riuscita a dominare non solo il popolo italiano ma in qualche modo si è riuscita ad affermarsi anche all'estero per un breve periodo. Una trentina di anni fa una casa editrice molto importante, l'Abrams pubblicò un libro che si chiamava L'arte nel Terzo Reich, eccolo qua, fece scandalo all'epoca perché si faceva vedere come anche la più avverrante delle ideologie si è riuscita a produrre in qualche modo dell'arte che in sé aveva un suo valore estetico. Oggi questa mostra non vuole fare questo tipo di operazione perché in qualche modo è stato sdoganato questo principio ma nello stesso tempo ci riesce a far capire in maniera molto interessante e molto acuta come la propaganda sia tanto più pericolosa quando è proposta con naturalezza, quando è proposta nella quotidianità. Un saluto da Central Park West.